L'impianto frenante è cruciale per le performance di una Formula 1. Scopriamo le sue componenti, le prestazioni e le sollecitazioni a cui è sottoposto. Yas Marinas è un tracciato caratterizzato da un elevato impegno per gli impianti frenanti. La frenata più severa precede la curva 8. La velocità iniziale è di 338 kmh. La velocità finale è di 83 kmh. In uno spazio di 125 metri e 2,57 secondi. La decelerazione massima è di 5,6 G.